Oggi è certamente un giorno memorabile per l'aviazione commerciale italiana e mondiale perché ci apprestiamo a celebrare l'avvio del primo volo diretto tra l'Australia e l'Europa continentale. Dico primo perché è effettivamente un volo diretto che parte da Perth e raggiunge Roma con circa 16 ore di volo. Una novità importante, un primato assoluto reso possibile dall'utilizzo degli aeromobili ad ultima generazione, in questo caso un 787-900 che con 16 ore di volo è in grado di collegare direttamente l'Australia occidentale con l'Europa. Per noi l'Australia è un mercato di poco strategico, basti pensare che l'Italia è il primo mercato in Europa continentale. Nel 2019 contava oltre mezzo milione di passeggeri che hanno volato tra l'Italia e l'Australia attraverso uno scalo intermedio, uno stop, almeno uno stop, quindi questo può ben far comprendere l'importanza di avere un collegamento diretto oggi.